Avanzo un'ipotesi. Fra le elezioni di Ronald Reagan e la fine dell'epoca Bush si è formata un'epoca di 30 anni che a mio parere passerà la storia col nome di epoca del trash. Cioè che cos'è il trash in realtà? È la semplificazione di un contenuto complesso fino ai suoi minimi dettagli, poi la trasformazione di questi minimi dettagli in parodia e infine il successo mediatico formidabile di questa parodia, perché la semplificazione totale del messaggio lo rende facilmente diffondibile. Questo avviene in politica, non posso dirlo di più se no mi chiudono il programma. Avviene in letteratura con un caso patetico e analfabeta come il codice da Vinci. Avviene nelle arti visive quando Damien Hirst copia i gesti di Marcel Duchamp. Cioè è un modo del nostro linguaggio attuale. Tutto si fa, comunicazione e apparenza. Certo. Qui c'è anche un problema di più in architettura, che è questo che tu chiami il trash, si trasforma in una passione per la grandezza fisica della cosa, per quella che si chiama la bigness. C'è questa idea che in fondo corrisponde a una situazione barbarica dentro la quale noi siamo, perché noi abbiamo fatto tante scoperte negli ultimi tempi tecnologiche, di relazioni, di cambiamenti di sistemi, eccetera, che siamo come dei barbari che non sappiamo utilizzare questa roba. L'utilizziamo in un modo molto rozzo. Si vedrà tra 50 anni cosa succederà, ma in questo momento siamo talmente meravigliati di questi giocattoli che abbiamo di fronte che non sappiamo come usarli. Allora ci rivolgiamo a una cosa sola, il grande. Una cosa deve essere grande. Il dignas dei primati è il vero traguardo anche delle arti. Allora le cose che devono essere le più strane possibili, le più diverse possibili. Non si sa più da che cose devono essere diverse. La normalità non c'è più. Buon senso e normalità sono le due utopie del contemporaneo. In questo momento stanno facendo in Arabia Saudita. Hanno fatto un progetto anche intelligente perché naturalmente a un certo punto il petrolio finirà e quindi loro dovranno fare altre cose. Però sono 20 milioni e fondano 6 città di un milione e mezzo ognuno. Dove li trovano? Non so. Li importano dall'estero. È come qui a Milano che vogliono far diventare la città di 700 mila abitanti più grandi in 10 anni quando sono 20 anni che sta diminuendo. Questa è una totale assurdità. Ma però la mania della grandezza è irrefrenabile. Il piccolo padiglione di Miss Van der Rohe, il padiglione Barcellona del 1929, forse non si sarebbe notato. E neanche la casettina minima di Corbusier. Tanto meno la casa elettrica di Figgini e Pollini. Tutta la modernità in fondo, noi quando leggiamo la storia della modernità facciamo una storia di piccoli oggetti che hanno trasformato e sono stati capaci di rivoluzionare o di cambiare o di mettere in discussione o di criticare. Invece il piccolo oggetto oggi non conta proprio più niente, non riesce a contare. E anche i moderni in fondo a me fanno anche molta tenerezza perché quando tentavano di fare loro, per esempio, dei grattacieli, erano delle cose incostruibili, impossibili in quel momento. Ma è questa impossibilità che è la loro poeticità. Il caso Gheri è molto particolare perché Gheri ha imparato da Santa Elena, la mamma di Costantino, la parola d'ordine in Oxilio Vinces. Ti racconta una bella storia su Bilbao? Io sono andato a visitarlo mentre c'era ancora dal cantiere, sono abbastanza amico dell'autore, mi ha fatto fare un bel giro, mi ha girato dentro e mi ha spiegato cosa aveva fatto, perché, con quali erano ragioni, il rapporto tra esterno e interno, paesaggio, eccetera. E poi alla fine mi ha guardato in faccia e mi ha detto, vuoi sì o sì che sto mace? E l'ho trovato carinissimo. Tu come vai d'accordo in quella stanza così rigorosa con l'edificio dove si trova, che è invece della seconda metà dell'Ottocento, tutto decorato? Assolutamente benissimo. Questo è un edificio che ha un significato risorgimentale, cioè dietro a questo edificio c'è l'idea della rivendicazione nazionale o nazionalista, se vuoi, chiamala come vuoi, questo è del 1870, l'idea che l'Italia ha una sua individualità che si verifica soprattutto nel momento del tardo romanico. Noi in fondo non siamo poi cambiati così tanto, perché nella stanza dove ti trovi tu, un po' come nella mia, potremmo anche essere in uno dei loculi della casa di Augusto Imperatore. Io ho parlato di questa cosa poco, due settimane fa con l'Andrea Calandini che è un mio vecchio amico. Lui mi ha consigliato di vedere una cosa molto interessante, proprio di fianco dove sta la sede del Partito Democratico c'è una scaletta, bisogna chiedere le suole la chiave, una cosa un po' complicata. Si scende una scala e c'è tre strade, che sono tre strade dell'antichità romana perfettamente conservate. Ma queste tre strade mi hanno fatto un'impressione che è quella che dici tu. Cioè, in fondo, vabbè, sì, sono una strada di una casa, delle porte, mi trovavo in una città che conoscevo, non so come dire per un certo verso.